È stata un'esperienza molto divertente, sembra di entrare un po' in un film del futuro. Ovviamente è un sogno perché poter essere in un'autovettura senza essere impegnato nella guida è un momento interessante soprattutto per quelli che sono tutti i viaggi di trasporto per andare al lavoro o questo tipo di utilizzo.